Ciao a tutti, oggi prepareremo le omelette prosciutto e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per i funghi, funghi misti surgelati, olio evo, sale, pepe e aglio. Per le omelette, uova, latte, sale, pepe, parmigiano grattugiato e prosciutto cotto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, posizionare la farfalla sulle lame, mettere i funghi, il pepe e il sale e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Togliere l'acqua di cottura, trasferire in una ciotola e mettere da parte. Abbiamo il sale, il sale e il parmigiano. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, prepariamo l'omelette. Scaldare un cucchiaio di olio evo in una padella antiaderente e versare due cucchiai di composto di uovo e cuocere le omelette da entrambi i lati. Una volta cotte, comporre l'omelette. Mettere un po' di prosciutto, i funghi, un po' di prezzemolo e chiudere. E proseguire così per tutto il resto degli ingredienti. Omelette, prosciutto e funghi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!